E' sempre un argomento che sta appunto dividendo i terramani da una parte e dall'altra, stiamo parlando ovviamente del Goldrec a Piazza Garibaldi, c'è stata l'uscita diciamo ufficiale dell'artista Carmine Di Giandomenico che si è tolto dal progetto dicendo appunto che era scomodo in un certo senso all'amministrazione comunale. Qual è la vostra risposta assessore in merito? La nostra risposta segue sempre i canoni dell'onestà e quindi è evidente che la parola forse più giusta è divisiva perché in qualche modo basterebbe andare in giro per Teramo per rendersi conto di quanti sono a favore di quest'opera e quanti in realtà sono contrari. L'attività dell'amministrazione appunto per un'opera di verità e di onestà intellettuale deve essere quella di non subire ricatto alcuno ma in qualche modo di cercare di dialogare con tutti per trovare la soluzione che sia più consona agli interessi espressi dai cittadini. Questa è l'attività che deve svolgere l'amministrazione e quindi per questo abbiamo sempre cercato un dialogo costante con coloro che proponevano questo progetto dopodiché dobbiamo anche ricordarlo al cittadino Teramani, ad oggi non esiste alcun progetto Goldrick per quello l'amministrazione non si è potuta esprimere, non si è espressa l'amministrazione così come non si sono espressi tutti gli altri enti che dovrebbero farlo. Siamo davanti ad un'idea progettuale e ancora non è stato concretizzato neanche il progetto preliminare quindi è evidente che in qualche modo l'amministrazione non si poteva pronunciare. L'attività che abbiamo svolto è quella di cercare di non avere problemi di sorta e quindi cercare una location che fosse il più adatta possibile alla collocazione di quest'opera. Purtroppo constatiamo che dall'altra parte invece probabilmente tutta questa disponibilità al dialogo non c'era e non possiamo fare altro che prenderne atto.